5-3, Barcellona, Ains palleggia e consegnato per Rodriguez, piccherola con Ains, palla nell'angolo per Niccolomelli che palleggia contro Nance e Leis, vuole attaccando individualmente, ancora spalle a canestro, Melli tiene vivo il palleggio a lungo poi si prende il tiro in fade away, che canestro per Niccolomelli, ha fatto capire fin da subito di voler tirare quel pallone aspettato un momento giusto per esibirsi in questo tiro canestro